Allenamento Total Body in tecnica PHA. Lavoriamo in piedi e a terra con pesetti ed esercizi a corpo libero. Iniziamo! Ok, iniziamo. Due spinte dietro e cambio braccio, due spinte dietro e cambio braccio. Facciamo un super riscaldamento per tutto il corpo prima di iniziare questo allenamento PHA. Vamos! Senza forzare, senza forzare. 3, 2, 1. Passo in step touch e attivo il movimento delle braccia. Pam, pam, pam. Così scaldiamo sia la parte bassa che anche la parte alta. Braccia, spalle, gomiti, ginocchia. Vamos! Respiro. 3, 2, 1. Mi fermo. Torsione del tronco. Attiviamo il tronco. Senza forzare. Respiro. Respirazione, respirazione. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Movimento spinta e pectoral. Vai. Apro e chiudo. Scaldiamo bene. Respiro. Attiviamo braccia e spalle. Esercizio successivo. Pugno incrociato. 3, 2, 1. Vai. Pugno incrociato a destra e a sinistra. A destra e a sinistra. Respiro. Scaldiamo tutto il corpo. Reattività. Vai. Prossimo esercizio. Spinta su gamba destra e sinistra. 3, 2, 1. Cambio. Mezzo squat. Spinta a destra. Mezzo squat. Sinistra. Vai. Iniziamo ad ascaldare la parte bassa. Gambe. Glutei. Vai. Respiro. Ancora. 3, 2, 1. Tocco della spalla e alzo le braccia. Vai. Tocco. Tocco. Distendo completamente le braccia sopra la testa. Vai. Scaldiamo bene tutto il corpo. Esercizio successivo. Mezzo squat. 3, 2, 1. Vai. Allargo le gambe. Mezzo squat. Appoggio bene i piedi a terra. Mezzo squat. Scaldiamo bene i glutei. Le gambe. Quadricipide femorale. 3, 2, 1. V-step. Vai. Apro e chiudo. Due passi aperti in avanti. Due passi chiusi indietro. Dal prossimo esercizio iniziamo con il nostro super allenamento PH. PH. 3, 2, 1. Jump. Su mezzo squat. Vai. Iniziamo questo super PH. Vai. Mezzo squat. Jump. Mezzo squat. Jump. Molleggio sulle ginocchia. Vai. 3, 2, 1. Recuperativo. Prendiamo i nostri pesetti. Bicipiti a martello. Senza rotazione. 3, 2, 1. Vai. Senza rotazione. Alterniamo destra e sinistra. Destra e sinistra. Vamos. Respiro. Non mi fermo. Ancora. 3, 2, 1. Recuperativo. Appoggiamo i pesetti. Ci prepariamo per affondo indietro alternato. 3, 2, 1. Vai. Affondo indietro. Alterno gamba destra. E gamba sinistra. Affondo destro. Affondo sinistro. E respiro. Mantengo il ritmo. Vai. 3, 2, 1. Riprendiamo i pesetti. Spinta in alto. Piego leggermente le gambe. 3, 2, 1. Vai. Piego leggermente le gambe. Testa dritta. Addome contratto. Salgo insieme. E scendo insieme. Vai. Faccio lavorare le braccia. 3, 2, 1. Recuperativo. Appoggiamo i pesetti a terra. Squat. Squat pieno. 3, 2, 1. Vai. Allargo le gambe. Allargo le punte. Ginocchio segue la linea della punta del piede. Vai. Lavoro sulle braccia. Testa dritta. 3, 2, 1. Riprendiamo i pesetti. Bici di martello senza rotazione. 3, 2, 1. Piego leggermente le gambe. Piego leggermente le ginocchia. Per non scaricare il peso sulla schiena. Testa dritta. Vamos. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Recuperativo. Appoggiamo il pesetto. Ci prepariamo per il mezzo squat e calciata. 2, 1. Mezzo squat e calciata. Mezzo squat e calciata. Vai. Squat leggermente accennato. E la calciata dietro. E la calciata. Vai. Non perdere l'equilibrio. Mantieni il ritmo. Vai. 2, 1. Riprendiamo i pesetti. Lavoriamo sulle spalle con alzate laterali. Gomito a 90. 3, 2, 1. Vai. Salgo e scendo. Testa dritta. Gambe leggermente piegate. Braccia a 90. Salgo e scendo piano. Vai. 3, 2, 1. Appoggiamo il peso. Abbiamo affondo e indietro più slancio. Gamba a sinistra. 3, 2, 1. Vai. Gamba a sinistra. Salgo. Slancio. Vai. Slancio. Affondo e indietro. Salgo. Slancio. Ancora. E su. E su. Ancora. 3, 2, 1. Recuperativo. Bicipiti a martello. Senza rotazione. 3, 2, 1. Vai. Prima da una parte. E poi dall'altra. Posizione. Presa a martello. Respiro. Destra. Sinistra. Piego leggermente le gambe. Testa dritta. Addome contratto. Gomiti bloccati. Ancora. 10 secondi. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo a lavorare sull'altra gamba. Affondo e indietro più slancio. Gamba destra. 3, 2, 1. Vai. Vai. Affondo e indietro e slancio. Affondo e indietro e slancio. Vai. Respiro. Vamos. Non ti fermare. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Riprendiamo i pesetti. Pettora più spinte. 3, 2, 1. Vai. I gomiti in linea con le spalle. Movimento pectoral e spinta. Movimento pectoral e spinta. Vai. Vai. Respiro. Non mi fermo. Vai. Ancora 10 secondi. Testa dritta. Resisti. Attiviamo spalle, petto e braccia. 3, 2, 1. Ok. Appoggiamo i pesetti. Passo laterale su mezzo squat. 3, 2, 1. Posizione di mezzo squat. Un passo a destra e un passo a sinistra. Testa dritta. Mantengo la posizione di mezzo squat senza salire. Passo laterale a destra e a sinistra. Attiviamo gambe. Glutei. Vai. Respiro. Non mi fermo. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Riprendiamo i pesetti. Vai. Bicipiti a martello senza rotazione. 3, 2, 1. Vai. Senza rotazione. Prima a destra e poi a sinistra. Distendo completamente le braccia. Vai. Vai. Respiro. Non mi fermo. Mantengo il ritmo. Vamos. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Appoggio il peso. Affondo incrociato a destra e a sinistra. 3, 2, 1. Attenzione. L'affondo incrociato è lento e controllato. Il ginocchio che va dietro deve rimanere in linea con la caviglia. Vai. Respiro. Scendo lentamente. Faccio lavorare gambe e glutei. Vai. Tecnicamente. Tecnicamente. Ancora. 3, 2, 1. Recuperativo. Riprendiamo i pesetti. Bicipiti più spinta in alto. 3, 2, 1. Vai. Giro. E ritorno. Sali. Giro. Spinta. Vai. Separi i movimenti. Bicipiti. Spinta in alto. Vai. Bicipiti. Spinta in alto. Respiro. Non mi fermo. Vai. Ancora. Non mi fermo. Su. 3, 2, 1. Ok. Facciamo una pausa. Ok. Slancio. Gamba piegata 90. Posizione di quadrupedia. Piede a martello. Scendo. E salgo. Esercizio controllato. Non andare veloce. Percepisci il lavoro sul gluteo. Gamba 90. Piede a martello. Scendo piano. E salgo piano. Scendo piano. E salgo piano. 3, 2, 1. Ci prepariamo per il push up. Ginocchi a terra. Partiamo da giù. Salgo. 3, 2, 1. Vai. Addome contratto. Devo lavorare solo sulle braccia. Non piegare la schiena. Schiena dritta. Addome contratto. Ancora. Vai. 3, 2, 1. Recupero. Ci rimettiamo in posizione di quadrupedia. E abbiamo lo slancio sull'altra gamba. 3, 2, 1. Gamba 90. Piede a martello. Salgo. E scendo. Lentamente. Vai. 2, 3, 4. Respiro. 5, 6, 7. Controllo il movimento. Gamba in blocco a 90. E piede in martello. Vai. 3, 2, 1. Ok. Ci giriamo schiena a terra. Abbiamo croci senza rotazione. Schiena delente a terra. 3, 2, 1. Vai. Apro. E torno. Respiro. Inspiro quando apro. Inspiro quando chiudo. Braccia leggermente piegate. Vai. Ancora. Non ti fermare. Testa dritta. Addome contratto. Piedi ben piantati a terra. 3, 2, 1. Appoggio i pesetti. Andiamo a lavorare con il ponte per attivare gambe e glutei. Mani sui lati. 3, 2, 1. Salgo. Massima salita. E scendo. Vai. Salgo. Contrago il glutei. E ritorno. Salgo. Contrago il glutei. E ritorno. Vai. 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 Ancora. Mantengo il ritmo. Salgo bene. Schiaccio i glutei. Ritorno giù. 2, 1. Riprendiamo i pesetti. Abbiamo i tricipiti da terra. Distendiamo le braccia. Blocchiamo i gomiti. 3, 2, 1. Addome contratto. Schiena ben aderente a terra. E andiamo ad attivare i tricipiti. Vai. Respiro. Respiro. Mantengo il ritmo. Non mi fermo. Vamos. Vai. Vai. Non ti fermare. Fino alla fine. 3, 2, 1. Recupero attivo. Apertura laterale gamba a 90. Ci mettiamo in posizione di quadrupedia. 3, 2, 1. Gamba a 90. Vai. Apertura laterale. Senza forzare. Addome contratto. Vai. Posso appoggiare sul tappeto il gomito opposto alla gamba che lavora. Vai. Respiro. Mantengo il ritmo. E non mi fermo. 3, 2, 1. Ok. Recupero attivo. Sempre su questa posizione. Plank. Braccia tese in isometria. Andiamo in posizione. 3, 2, 1. E salgo. Mantengo la posizione. Corpo in linea. Schiaccio i glutei. Testa dritta. Braccia. Braccia in linea con le spalle. E respiro. Respirazione. 3, 2, 1. Ok. Ora andiamo ad attivare l'altra gamba con l'apertura laterale a 90. Posizione di quadrupedia. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Apertura laterale. Possiamo piegare il ginocchio opposto, il gomito opposto, la gamba che lavora. Gamba 90. Attiviamo il gluteo. Vamos. Respiro. Ancora. Fino alla fine. Vai. 3, 2, 1. Recupero. Ci giriamo. Ancora schiena a terra. Abbiamo le croci senza rotazione. 3, 2, 1. Vai. Braccia semitesi. Apro lentamente e chiudo. Vai. Ancora. Inspiro in apertura. Espiro in chiusura. Mi raccomando la respirazione abbinata all'esercizio. Vai. Respiro. Attiviamo il petto e le braccia. Vai. Addome contratto. 3, 2, 1. Ok. Appoggiamo i pesenti sui fianchi. Braccia giù. Testa dritta. Esercizio successivo. E il ponte. In salita. Vai. Salgo. Schiacci i glutei e scendo. Salgo. Schiacci i glutei e scendo. Vai. Appoggio. E salgo. Appoggio. E salgo. Vai. Massima salita del pavimento pelvico. In cima. Schiaccio il gluteo. E ritorno. Respiro. Ancora. 3, 2, 1. Ok. Riprendiamo i pesenti. Tricipiti da terra. Gambo in sicurezza. Schiena aderente. Blocco i gomiti. 3, 2, 1. Vai. Distendo. E ritorno. Distendo. E ritorno. Mantengo i gomiti bloccati. Respiro. Vai. Attiviamo i tricipiti. Rassodiamo. E tonifichiamo. Famos. Allungo. E chiudo. Allungo. E chiudo. Coordinazione. Devono scendere e salire insieme. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci giriamo in posizione di quadrupedia per attivare il gluteo in movimento puls. Respiro. 3, 2, 1. Vai. Gamba 90. Piede a martello. Vado in movimento puls. Attiviamo il gluteo. Resisti. Pam. Pam. Tienilo lì in movimento. Vai. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Da questa posizione andiamo con i plank in movimento. Cioè con le ginocchia verso il petto. Stiamoci in posizione. 3, 2, 1. Vai. Plank in movimento. Avvicino il ginocchio al petto. Vai. Vai. Posizione. Respiro. Braccia in linea con le spalle. Testa dritta. Resisti. Fino alla fine. Vai. 3, 2, 1. Recupero attivo. Adesso abbiamo l'esercizio pulse sull'altra gamba. Andiamo ad attivare l'altra gamba. Posizione di quadrupedia. 3, 2, 1. Vai. Lavoriamo sull'altra gamba. La gamba opposta a quella che abbiamo fatto prima. gamba 90. Piede a martello. Con il piede immaginate di spingere qualcosa. Mantenete quella posizione. Testa dritta. Respirazione. 3, 2, 1. Ci giriamo. Vai. Schiena a terra. 3, 2, 1. Vai. Apertura con rotazione. E chiudo. Apro. E chiudo. Attivo la rotazione. Respiro. Addome contratto. Testa dritta. Appoggio bene i piedi a terra. Rotazione. Apro. Rotazione. Chiudo. Vai. Fino alla fine. 3, 2, 1. Ok. Spostiamo i nostri pesetti da una parte. Spostiamo il tappetino leggermente in avanti. Per il prossimo esercizio squat più doppio calcio. 3, 2, 1. Vai. Squat. 1, 2. Squat. 1, 2. Vai. Squat. E doppio calcio. Ancora. Mantengo il ritmo. Respiro. Non fermo. Vai. Ancora 10 secondi. Squat. 1, 2, 3, 2, 1. Recuperativo. Riprendiamo i pesetti. Bicipiti alternati. 3, 2, 1. Vai. Respiro. Alterno destra e sinistra. Distendo completamente un braccio e poi salvo con l'altro. Vai. Testa dritta, addome contratto. Piego leggermente le gambe per non scaricare sulla schiena. Apro le punte. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Appoggio i pesetti. E ci prepariamo per affondi indietro. Solo gamba sinistra. 3, 2, 1. Vai. Affondo indietro. Solo da sinistra. Mantengo il ritmo. Controllo il movimento. Non perdo l'equilibrio. E respiro. Vai. Respiro. Fisso un punto che mi aiuta sull'equilibrio del movimento. Vai. 3, 2, 1. Recupero attivo. Tricipiti su un braccio. Mano in appoggio sul gomito. 3, 2, 1. Vai. Respiro. Mantengo il ritmo. Distendo completamente il braccio. Vai. Vai. Ancora. Ancora. Con la mano vado ad assistere il gomito. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Appoggio il pezzetto a terra. Ora abbiamo affondo indietro. Sulla destra, l'altra gamba. Ci prepariamo. E vai. Affondo indietro. Sull'altra gamba che non abbiamo lavorato. Vai. Vai. Respiro. Mantengo il ritmo. Ginocchio sfiora il pavimento ma non tocca così siamo più reattivi. Vai. E salgo. E salgo. Vamos. Non rallentare. 3, 2, 1. Sull'altro braccio. Ora. Tricipite. Con mano in appoggio. 3, 2, 1. Vai. Piego leggermente le gambe. Così non scarico sulla schiena. Il lavoro. 20 secondi. Distendo completamente. Vai. 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 Respirazione. Mantengo il ritmo. 3, 2, 1. Ok. Appoggio il pesetto. Molleggio su squat. Allargiamo le gambe. 3, 2, 1. Vai. Scendo. Testa dritta. Il gluteo rimane in linea con il ginocchio. per attivare uno squat pieno. Molleggio. Così attiviamo gambe. Glutei. Quadricipite femorale. Deve bruciare. Deve bruciare. Vamos. Ancora. Ancora. 3, 2, 1. E salgo. Ottimo lavoro. Ora attiviamo la respirazione. 3, 2, 1. Allargo le gambe. Vado giù. Ispiro col naso ed ispiro col naso ed ispiro con la bocca. Ancora. Ancora. E butto fuori. 3, 2, 1. Mobilizzazione della colonna. Vai. In arco. E in curvo. Il movimento è lento. Controllato. Respiro. In arco. E in curvo. Vai. 3, 2, 1. Stretching. Spalla destra o sinistra. Iniziamo prima da una parte e poi dall'altra. Braccio teso. Con l'altra mano spingo sul gomito leggermente verso di me. 3, 2, 1. Lascio piano piano. Dall'altra parte. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Ritorno sull'altro braccio. Vai. Dietro. E stretching sul tricipite. Non vado a forzare il movimento. Dove arrivo? Questa è la posizione della mano. Mantengo lo stretching e poi cambiamo braccio. 3, 2, 1. Lascio. Dall'altra parte. Vai. Senza forzare. Vado dietro. Con l'altra mano sostengo il gomito. Mantengo la posizione e respiro. 3, 2, 1. Lascio. Allargo le gambe. Divaricata frontale in avanti. Vai. Piano piano. Andiamo giù. Senza forzare. Se arrivo a toccare terra, bene. Altrimenti dove arrivo, mantengo la posizione del stretching senza forzare. Non va mai forzato lo stretching. Dove arrivi, ti fermi. Piano piano nel tempo avrai sempre più elasticità. 3, 2, 1. Rissaliamo piano piano. E ci siamo. Il tuo allenamento è finito. Ci vediamo al prossimo allenamento. Vamos. E ci vediamo al prossimo allenamento.